Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In diretta da un channel In diretta da casa Sanremo In Pantare Abbiamo detto già in altre occasioni Sanremo è il festival Il festival della musica Raccontiamo la musica Non soltanto quella che prende vita sul palco dell'Ariston Ma anche quella che è in promozione per la città Durante queste giornate importanti I Pantare sono un gruppo in promozione Siete romani o sardi? Non ho ben capito Entrambe, entrambe le cose Io sono sardo Sono stato adottato dai Pantare Io e Marco ci siamo Siamo degli amici Presenta gli altri amici? Anzi te stesso? Io sono Matteo Michael De Letta Sono sardo appunto Sono la voce del gruppo Lui è... Andrea, gli annota la batteria E Marco Picchiorri Marco Picchiorri Chi dà dell'acustica? Ne mancano altri due Ne mancano altri due Penta, appunto, cinque Quindi ne mancano due Ragazzi allora In bocca al lupo Crevi Viva il lupo E viva il lupo Per il Pantare Grazie di cuore Grazie per l'occasione Grazie di cuore Un saluto dai Pantare Per oggi Penta tre Perché due ne mancano Ma ci inviteranno tantissimo E rosicheranno Da Sanremo 2015 Ciao Oramai Non puoi Sfuggirmi Dalle mie Partenze E ritorni Sfuggirmi 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 Un saluto Sfugg Popular Sfugg Chevy